Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio sulla valle d'Itria. Sono immagini impressionanti quelle che arrivano da Cisternino e Locorotondo dove il maltempo si è presentato con tutta la sua forza. Grandinate con chicchi di ghiaccio con diametro di qualche centimetro, fortissime raffiche di vento e temporali. Anche Mottola non è stata risparmiata. I meteorologi in realtà lo avevano previsto dopo settimane di dominio dell'anticiclone africano Caronte. La Puglia nel weekend vedrà scendere le temperature anche in modo sensibile rispetto al grande caldo dei giorni passati. La protezione civile della regione Puglia ha diramato un bollettino meteo con allerta arancione in quasi tutta la Puglia da nord a sud, fatta eccezione per la provincia di Lecce, interessata da un'allerta di tipo giallo. Nelle altre province invece sono attese precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sulla Puglia centro-settendrionale dove assumeranno carattere di persistenza. Sempre nel bollettino della protezione civile si legge che i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il maltempo durerà sino a tutta la giornata di venerdì e toccherà per qualche ora anche la giornata di sabato per poi migliorare gradualmente.